Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il caro abuso il vicero Raffaele e oggi siamo su una cosa, su questi cosi Dai, questi cosi si chiamano spinner, allora iniziamo prima con questo, questo qua è particolare se io premo questi qua, si vede la lucina, poi non è così particolare perché si premi un'altra volta, vanno più lenti le lucine però se lo vedete da vicino è bellissimo, dalla videocamera, dalla videocamera si vede così, però se lo vedete da vicino una bomba, è così particolare, questi qua si possono togliere, senza uno fa così, madonna balla e con due fa così, si balla anche questo, con senza va velocissimo va molto, ok, poi io c'ho questo, madonna, c'è l'odio questo, allora va così piano, perché prima andava una bestia mortale che superava anche questo adesso, io lo faccio così, è andata sull'acqua, no, no, aspetta, vabbè, è andata sull'acqua e tutte le cose che c'erano dentro qua, sono spaccate se il video vi è piaciuto ci vediamo nel prossimo video bella raga, ah, aspetta, io, aspetta nei commenti quanti spinner avete, non dite bugie, non dite 3 miliardi bella raga, bella raga, ciao